Fabio, miglior centrocampista della passata stagione, belle soddisfazioni? Sì, sicuramente una bella soddisfazione perché comunque va a riconoscere il lavoro che è stato fatto, ma sicuramente se sono stati raggiunti questi risultati è perché dietro c'era una squadra che mi ha permesso comunque di fare delle belle prestazioni e tutto il resto. Adesso siamo qui, riteneremo il premio e poi da domani penseremo alla partita.